Ho 18 anni, faccio il quinto liceo, faccio il liceo artistico, ho scolpito per un po' di tempo in garage, ho imparato in garage a scolpire in legno, poi ho iniziato a scolpire fuori e fino adesso ho realizzato i sei lavori sul legno, solitamente lavoro su dei tronchi tagliati dove io intervengo scolpendo degli elementi che possono variare da un volto a qualsiasi cosa mi possa venire in mente per quel tronco in particolare. Spesso la gente si è fermata, fanno domande, spesso mi raccontano cose loro, come è andata la loro giornata, mi chiedono come è andata la mia, quindi è piacevole, si sentono tante storie. Per realizzare un'opera su un tronco circa ci metto una settimana, lavorando su tronchi che spesso sono marci, cioè c'è un motivo per il quale sono stati tagliati, spesso sono malati o marci, quindi all'interno hanno delle morbidezze che non ci dovrebbero essere e quindi lì un po' si allunga la cosa e devo privilegiare il lavoro in alcune zone e magari lasciare altre un po' meno trattate. Io andando a scolpire lascio comunque un segno nel tronco a chi passa, nel senso spesso fa piacere vedere una scultura in un tronco.